Un saluto molto cordiale a tutti i sardi e a tutti quelli che abitano a Cagliari che stanno attaccati al santuario della Madonna, a Temonaria. Sono tanti oggi i pererini dell'isola di Sardegna che stanno a Barcellona, questa bella città e questa arsidioce che accoglie tutti questi pererini per le radici storici che abbiamo comuni fra uno e gli altri. La Madonna di Bonaria sta nel cuore di tutti voi perché la Madonna, perché la madre di Dio allora sempre sta accanto ai suoi figli, voi lo sapete moltissimo, voi avete una devozione profonda, voi pregate e la Madonna come una mamma sempre ascolta i figli e sempre dice a Gesù, il suo figlio, quello che noi avviciniamo. Allora vi dico quello che Maria, che è la Madonna di Bonaria, vi dice sempre, fate tutto quello che Gesù vi dice.